Allora signora, è stato citato, non potevamo che invitarlo qui, un saluto speciale, dal sindaco di Solfanuccio, Tazio Cercolani! Grazie! Non c'è bisogno che ci dica... Ho capito? Non ci dica i dettagli, non c'è bisogno! Allora, sindaco, lei è il sindaco di una cittadina che ha citato prima... Dov'è il sindaco? È lì davanti, guarda... Bella, che fortuna ci avete voi, questo sindaco, bella voi può! A faccia da Guzzi! Allora, senta, lei è il sindaco di Solfanuccio? Certamente! Quanti abitanti ha Solfanuccio? Tutti magari sono di San Costello? Quanti si dice signora? Trecce, 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 trecce! Doce, 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 è morto, è feccone! Sera morto i anni 70, per scopo sempre! Eh, va bene, però quant'era la trecce del dolce! Comunque non si più... Lei sei famoso per essere il sindaco delle idee? Certo! San Costanzo è bellissima, ma lei è famoso per il sindaco delle idee? Bellissima, però io sono internazionale, ho fatto i gemellaggi con Berlino, con New York, io sono il sindaco delle idee, mi chiamano dal frattuco, mi chiamano dai cartocini, da Rosciano, da Fuderino, da Casaria... Come le arrivano? Come le arrivano a vedere? Mi arrivano così, ogni tanto mi concentro, mi fermo così... Questa stessa comincia a scorreggiarciamenti, a parlare, a dire le robe, a vambere, e qualcuno però è buono, 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 qualcuno si scrive a Fini che mi scrive le robe, va bene... Vabbè, vediamo noi, lei so che è famoso, famoso da questo momento, con delle grandi opere che lei ha provato a fare visto per tirare su... Per risolvere l'economia, la piccola economia di sottofondo, cosa faccio? Delle piccole cose per poter... Una cosa piccola, per iniziare questo così, ma d'altro che ho fatto l'economia di sottofondo, è stata una piccola cosa, per solfanucci, che si è determinante, determinante, se l'hai capito... La metropolitana, la solfanucci, la metropolitana perché secondo me con tutte le stesse salicette, queste strade che molte volte c'hanno le vulpe, c'hanno le crepe, i zupi d'eterno, e le maledette, allora gli dici, dateci pochi, è una strada sola, c'è la metropolitana, Ma per sapere, quante fermate fa sul trincio? Tre, come tre? A questo punto docce, una doppia, 12 fermate, una a casa, una a casa, Ma fai la fermata davanti e va bene? Una fermata dietro secondi, signora... Adesso aspetta... Adesso aspetta... Adesso aspetta... Adesso aspetta... Va bene, senta... Senta, va bene, per la mobilità interna ci posso anche capire... Ma abbiamo assolutamente le cantine Bruscia che esportano in tutto il mondo, sentito... Che cosa ha pensato per esportare in tutto il mondo i vini di Bruscia? Ecco, cosa aveva pensato? Una qualche cosa per... Ho inventato l'ultimo... Non sapevo quanto inventare... No, 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 che cosa... Ma perché a me vorrei citare una scurezza nata, non mi ha scappato... Non mi ha scappato un'idea... Ma beh, ma ha pensato a delle infrastrutture per poter riuscire a portare velocemente... Beh, mi ce l'ho riuscito, perché... Ah, è vero, è vero che voleva dire... No, perché... Un applauso a Sido, come San Buonso... Un applauso a tutti, signora... Bruscia, devi portare questi vini in tutto il mondo... Ah, sono di Magritte... Ma, ma... Ma ammazzata... Quanto ha perso? Ma avevamo un po' stretti... Allora, sindaco... Sono una roba riconosci... Ma già, non mi riconosci più... Insomma, mi tocca girarsi alla faccia, se no non mi riconosci più... Sono di Magritte a Marti, là... Sono preoccupato... Perla come la prima... Per portare questi vini in tutto il mondo... Che cosa aveva pensato lei? Ecco, di infrastrutture... Io li vuoi portarsi alla Nava, sopra l'ultima... Sono il barruccio... Sì... Saranate... Sì... Però non c'è l'acqua... Non c'è il porto, non c'è l'acqua... E quindi? Se non c'è l'acqua... Se non c'è l'acqua... Se non c'è l'acqua... Cosa cosa fa? Che cosa bisogna fare? Tocca scavare... Alla zappa... Scavare, scavare, scavare... L'acqua arriva... Se vorrà 80 anni... Ma l'acqua arriva... E cosa si fa a costare? Che ne sono a costo di siena... Perché abbiamo dovuto per me di dietro... Perché sapevo dove c'ha fatto il vino... C'è l'acqua... Per far cucita a busta... La brucia... Brucia... Paga, paga... Ma anche io premio... Io anche io non do le campanedone... Noi diamo il forcone d'argento... Non scelta a Milano... Sono giuvenine... Perché è la frazione... Ma il forcone d'argento... Quando io premio... A chi mi fa il piacere... A chi che premia? A chi mi fa il piacere... E come... Sì, ma per cui la chiesa... Lo volevo premiare... Ma per stare a piedatterni... L'altra sera... Che c'era una del pandà... Se lo volevo premiare... Ah, sì, lei premia così... A chi fa il piacere a lei... Sì, lo sento avanti... So che lei è famoso anche per i gemellaggi... Sì, i gemellaggi... Ah, i gemellaggi... Con chi ha fatto il gemellaggio? Il gemellaggio... Ultimamente l'avevamo fatto... Come dicevo prima... A Berlino... A New York... E anche con piccole cittadine... Come abbiamo fatto con... A Tavernelle... A Cartoceto... Ultimamente quando ho chiesto di farlo con Mondolfo... Eh, ma è qui... Snow kass! Va bene, basta così... Disse per 214 anni... Grazie... Grazie... Grazie a tutti.